I controlli nei luoghi di lavoro, cantieri compresi in Toscana, ci sono e superano di quasi il doppio la percentuale richiesta dal Ministero, ovvero il 5% delle imprese presenti in ogni territorio. A fronte di indicazioni nazionali che danno una vigilanza sul 5% di quelle che sono le posizioni assicurative territoriali dell'Inele, cioè sarebbe un numero legato al numero di imprese presenti nel territorio, quindi le indicazioni nazionali sarebbero quelle del 5% di queste imprese e che è questa linea verde, come possiamo vedere dagli istogrammi il numero effettivo di controlli effettuati in Regione Toscana è molto al di sopra, anche perché la Regione Toscana programma in genere un numero superiore a quel 5% pari al 7,5% a fronte di una programmazione di 3.100 controlli e il consuntivo nel 2023 ne sono stati fatti 4.030, quindi un 130% con una copertura rispetto al numero di queste unità locali presenti nel territorio del 9,9%, quindi un 10%. Rao, facevamo un ragionamento anche sull'impianto normativo, no? Ecco, le norme ci sono e sono anche ben articolate. Sì, esiste ormai il testo unico che ha raccolto diverse norme preesistenti che è molto corposo e abbastanza completo. Certo, è migliorabile come tutte le leggi, però è abbastanza corposo e completo. Facendo un focus sui cantieri, nella ASL Toscana Sud-Est ne sono stati controllati nel 2023 più di 8.000. In totale, in tutta la Toscana, il numero dei cantieri controllati supera i 36.000. Nella sola ASL Toscana Sud-Est sono state rilevate 394 violazioni nel settore edilizio, 113 in quello agricolo e 432 negli altri settori. In tutto 12 le attività sospese, di cui 9 nel settore edilizio. Ma concretamente, come si effettua un controllo in un cantiere? Allora, i cantieri sono un po' diversi dall'azienda. In un cantiere, chiaramente, si entra, si cerca di riconoscere innanzitutto i lavoratori e le relative imprese, è importante, e dopodiché, chiaramente, si chiede del capo cantiere se è presente, eccetera. E quindi si chiedono tutta la documentazione che per legge deve essere a disposizione degli organi di vigilanza all'interno del cantiere, quindi se è previsto il piano di sicurezza e coordinamento, eccetera, eccetera. Dopodiché, quindi, verificati questi aspetti, quindi la presenza dei lavoratori, di quali imprese, perché chiaramente noi facciamo vigilanza sulle imprese presenti, che hanno dei lavoratori presenti nel cantiere. E dopodiché si ispeziona il cantiere, si ispeziona il cantiere andando nei vari impalcati, insomma, a seconda del tipo di cantiere, verificando che tutte le opere provvisionali, collettive, le opere individuali, dispositivi di protezione individuali, siano conformi a quello previste dalla norma.